Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò come saltare la pubblicità nei giochi Android senza permessi di root, quindi senza permessi amministrativi. La prima cosa da fare è andare su Google e cercare FDroid e scaricare questa applicazione sullo smartphone, quindi tappate su scarica FDroid, attendete e installate l'applicazione. Quindi installate, attendiamo, aprite l'applicazione e nella ricerca digitate DNS66, attendete perché impiega un po' ad aggiornare la repository, quindi per questo non lo trova. attendete un po', ok, DNS66, eccolo qua, quindi tappate su questo pulsante per scaricarlo, io già l'ho scaricato quindi ve lo mostro. DNS66, eccolo qua, assicuratevi di abilitare tutte e tre le voci, assicuratevi di abilitare aggiorna quotidianamente i filtri host e assicuratevi di abilitare questi server. Dopodiché tappate su avvia, tappate su sì e lasciatelo in background. Come potete vedere il software, l'applicazione DNS66 funziona in background, quindi potete lanciare un qualsiasi gioco che ha la pubblicità e verrà bloccata.